Signore e signori, questo è il podcast qualunque Opinioni, fatti e idee Si scontrano nell'arena del libero pensiero Conducono Morris, Loc e Danda E benvenuti all'episodio numero 12 del podcast qualunque Siamo di nuovo qui con Loc, Danda e Morris Che è sempre... Uh, dove sei Morris? Quanta gente che c'è in sta stanza Morris è sempre attivo Sempre felicissimo Morris È ancora impegnato con il suo locale Un sacco di cose da fare Un sacco di piatti da preparare E fatto Danda che è una pezza di merda Non è ancora andata a trovarlo Esatto Eh, esatto Stavo aspettando il momento buono per andare lì a gustare i panini vegetariani È vero perché lei è tanto vegetariana che sfigata Ogni burgeria è vegetariana Eh già Tipo A me fa morire che una volta parlavamo anche di un altro locale ad Asti Che si chiama Galaxy Burger, no? E io faccio... Eh, fa schifo Io pensavo, ma se sei vegetariana che cazzo ne sai che fa schifo, no? Perché me l'ha detto chi mangiava la carne con... Sì, ma poi lei in realtà se l'è solo presa perché... Ah sì, me la sono anche presa Ma sì, io ti avrei risposto molto peggio Poi sei stato in Luigi Ma perché? Ma anche McDonald's fa le robe vegetariani Ma è divertente piare per il culo la gente Ma perché? Se tu hai un'attività che sta andando forte, ok? E ti arriva un cliente che ti puoi permettere di fargli la battutina No, avevo appena aperto quando sono andata io Ah sì Ma poi il tipo alla cassa è tipo la persona più gentile dell'universo Solo a te ti ha trattato male Non è che è cambiato No, è sempre stato uguale Io sono andato all'inizio, è sempre lui È tipo... è proprio il classico leccaculo È proprio il classico tizio che è proprio un leccaculo Però è proprio... cioè... Spaventosamente gentile Solo che erano i primi giorni Ho visto una vegeta viena del cazzo Ho detto, ah sta vegeta viena di merda Sfogo tutto... Sai quando sei carico, troppa gentilezza nei clienti Devi sfogarti su qualcuno, no? È su di me E non ho fatto niente a nessuno Che poi cos'è successo? Sembra che ti ha fatto chissà cosa Cos'è che ti ha fatto? Sentiamo Ma niente, ha alzato gli occhi al cielo E ha detto tipo... Allora non veniva in un'hamburgeria Ma intanto ero con altra gente Scusami Oh, mamma mia Perché vuoi, ma visto? Un giorno prendo il tuo cane e me lo mangio No, io ti ammazzo Altro giorno che ero a casa della mia femmina Stavamo discutendo Di come a me non freghi assolutamente nulla delle persone, no? Ma proprio zevo totale Tranne che del mio cane E per farmi capire la compassione umana Perché parlavamo del... Di quello che è successo giù in... Di terremoti, le valanghe lì, quel cazzo che... Cosa? Quel cazzo che... E beh, a me non me ne fregava niente Lo dico, cioè Non mi toccava minimamente la storia di quelli intrappolati Che non arrivano gli aiuti Proprio non c'è... Cioè, non è colpa mia Mi dispiace, per carità Perché lo devo dire Ma dentro di me Non sento assolutamente nulla Vabbè, ma credo che sia... Cioè, nel senso Finché non conosci qualcuno È ovvio E poi sei un posto lontano da qua Quindi... Sì, no, ma infatti... È abbastanza normale non essere trasporto Io credo che la maggior parte di quelli Che ad esempio su Facebook Commentano ogni cinque minuti Forza ragazzi! Siamo con voi! Cioè, non gliene sbatta un cazzo lo stesso Sì, però a me è proprio... Non so come dire Morissevo adesso Vabbè, esseri umani in meno Non mi interessa Poi allora, per farmi il paragone Ma tu immagina che sia Ottone Rinchiuso che chiede aiuto E mi è venuto da piangere Vabbè, ma io credo che lì Cioè, nel senso Immagina allora che sia Che ne so Un tuo amico Rinchiuso lì che chiede aiuto Non so, non mi fa lo stesso effetto Dentro di me non mi fa lo stesso effetto Cioè, anche mia madre Forse anche mia sorella Fai altro brava mia sorella Un saluto a mia sorella se mi segue Perché sono... Speriamo non ti segua Perché scusami Sì, ma ogni tanto guardo i video Perché no? Perché a volte dici delle volgarità Oh, guarda Non conosci mia madre Quindi non c'è... Perché pensi che io parli così? E no, io sono fiero Sono fiero di mia sorella Perché dobbiamo fare anche un intro Per quando raccontiamo i nostri aneddoti Anche ci saranno due intro nuove In questo episodio Comunque Sono fiero di mia sorella Perché qualche giorno fa Mi ha scritto su Whatsapp E poi ti faccio un audio Di quando mia nonna Si mette a piangere E fa la vittima Che mia nonna... Beh, speriamo che non guardi Mia nonna Mia nonna è un po' È un po' stronza, no? La classica vecchiaccia Fascistoide Vittima dell'universo Che non muore mai E praticamente Verso mia madre Per una serie di motivi Sfortunati eventi È andata a cercare fortuna Verso il Veneto Ma ha trovato solo la sciagura E si ritrova a vivere Con la vecchiarda, no? Con mia sovellina più piccola E oggi mi arriva un audio Anzi, faccio sentire l'audio magari Dici che è troppo privac? Se ne è fotte No, vabbè Se non dice nomi e cognomi Boh No, non dice nomi e cognomi No, vabbè Non dirà Ciao, sono... E mi ha mandato questo audio Dove c'è Mia nonna che è tipo Da un niente Si mette a piangere Senza motivo È bellissimo E poi mi ha fatto La faccina che videva Aspetta Dov'è? 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 Stai con la lentina Eccolo qua Aspetta Volume Lo sentono male Mi sa Stanno discutendo del telefono Doveva avere una spina Mi andava attaccata La mia moglie Adesso va senza spina Aspetta Non si sa niente È normale? E bisogna piangere Ma perché non trova La spina del telefono? Ma cos'è la spina del telefono? Aspetta Fa crepare tanta gente E mi lascia qua Solo per soffrire E basta Dio Penso Non lo so E che dovevo La telecom ad esempio E qua sta piangendo Se lo sentite VECCHIACCIA Ma che non vuoi crepare Non dire bagianate Che c'è 50 anni E volevi rifarti Le cazzo Questo voleva rifarsi Voleva rifarsi la bocca Tipo Ma vaffanculo E muori Speriamo che non guardi Questo episodio Mia nonna Magari dice Vediamo cosa fa Mio nipote su youtube Tipo una volta Clicca E guarda l'episodio Loc Quello si intitola Loc Parla mai della nonna Finisce nel best of Facciamo best of Loc Insulta la non era E le augura di morire Ma no No davvero Vedi che sono Proprio una persona orribile Io adesso ho fatto Il fioretto Di essere più brava E quindi cerco Di non dire Mi devi correggere Quando mi Voglio migliorare il mondo Bene E detto E a questo Ti facciamo subito Da un paio di soggetti Da migliorare Con la nostra prima Nuovissima intro Dov'è la scaletta? La nostra nuovissima intro The trash Definitiva Questa è un po' lunga Quindi possiamo Parlarci sopra Di 2 a 40 secondi Che conosco Che conosco io E le cose Che sono da grandi Spagno Con Ok Ok Io non scopo Io non scopo Io non scopo Se lei non mi zuggia Allora non me la scopo Ti devi spaventare Essendo questa la prima volta Ve la facciamo Ah questa è una Kinka per i fan di Jojo E questa è la nuova Nostra nuova intro Della Della sezione Trash Del podcast In questo modo Possiamo dare un ritmo Al nostro show Ed è per questo Che vogliamo anche iniziare Con chi Uno dei personaggi Preferiti di Danda Del pub di Youtube Italia Ovvero Andrea Di Pre Il tuo sbarbo è unico Ma non si capisce Da quello che ho capito Aspettate Aspettate Da quello che ho capito Il preambolo È creato In sua trasmissione televisiva È leggere i commenti Degli haters Su qua gli ha preparato Un foglio Che commenti Di quelli che lo odiano Su Twitter Ah ok Perfetto Questo farino Questo farino Aspettate Comunque Andrea Di Pre Il tuo sbarbo è unico Ma non si capisce Dove cazzo guardi Questo farino Questo farino Secondo Secondo haters Io so cantare Una canzone Del club Dogo Ruttando Sono un'opera D'arte mobile E certo che lo sei Presentati Scrivimi Di pre c'è sta cosa Che tu puoi anche Cagargli addosso Basta che gli sganci Il cash È una critica Che gli hanno mosso Una volta In una trasmissione televisiva Ma oggi ho cercato E non l'ho trovato Cazzo Perché non mi ricordo Anche il nome della trasmissione E quando Gli hanno Praticamente mostrato Una finta scultura Fatta a Muzzo Chiesto se era un'opera d'arte E quanto voleva Per Farsi pubblicità No? E di pre ha detto Sì 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 È un'opera d'arte Però Scusami eh Tu vai Dal mercante di mele E gli dici Mercante di mele E gli dici Buon uovo Ha qui delle mele Che vorrei acquistare Sono buone E il tizio ti dice di sì Alla fine di pre Vende pubblicità Se tu sei talmente Coglione Che ti fai Pubblicizzare una merda Perché era l'epoca In cui funzionava In modo diverso di pre Era l'epoca in cui tu Lo chiamavi Volevi farti pubblicità Di una tua opera In quel programma Di merda che aveva E pagavi Cash E te la faceva pubblicità Se tu pubblicizzi Una merda A me Tanto non ha una credibilità Come credico d'arte Di pre Che cazzo gliene fotte In tasca il grano E vaffanculo Ma poi io non capisco Il concetto di opera D'arte finta Una scultura Ha fatto una cosa Ambuzzo con la plastilina Ha detto Questa è arte moderna Cioè sai Classica Sì 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 Proprio dire C'è un dei quadri Esposti in dei musei Che sono di una tela bianca Appunto Per intenderci E quello che dico Come fai a riconoscere L'arte vera L'arte finta Nel senso L'arte Cioè Non è solo Una cosa visiva Esprime un concetto Cioè nel senso Difficile andare a capire Dove Dove l'arte Dove Mi cercano con una foto in via Soprattutto di una scultura Non è una foto Addirittura le foto di un quadro Dicevi prima Che non rendono giustizia Esatto Ed è una cosa Sì che in effetti hai ragione Perché ne discutevo anche con Con alcuni miei amici Una volta dove parlavamo Dei quadri No? Sì C'è proprio più vernice Su certi punti Per dare lo spessore Che è una cosa Che non puoi ancora riprodurre Con un pc Poi uno schermo di un pc Lo guardi solo Da una direzione Il quadro invece Lo puoi guardare Da tutte le direzioni Quindi no L'arte non può essere Ancora riprodotta In forma completamente sintetica Almeno Quel tipo di arte E poi non mi ricordo più Qual era il punto Della conversazione Stavamo appunto dicendo che L'arte soggettiva Contestavi questa cosa Che l'hanno chiamato Per recensire Una scultura D'arte finta E lui la voleva recensire In cambio di denaro E tu dicevi Non è una cosa Così disdicevole Sì esatto Secondo me Alla fine Di Pre Ma ha fatto di peggio Esatto Esatto E diventerai milionario Caro Di Pre Non capisci un cazzo di arte Sai quella la differenza Tra te e un sacco di merda Il sacco Questo è bello Però Jacopo Ti dico una cosa Lascia che ti dica questo Hai creato uno show stupendo Mi fai entrare Sulla palla di Miley Cyrus Sì E poi Ti perdi per un coglione Testa di cazzo Che lo sapevo Figlio di puttana No 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 Che si permette Non ha filtri di prego dunque Allora Ehm Mi risolto dagli insulti Della boccato di pre Allora Io voglio che tu mi dica Chi ha scritto questo tweet Sì Perché A me un cazzo di arte Non lo dice nessuno Bene Perché Ogni volta Siamo alle solite Lei ha detto che La differenza tra un sacco di merda Lei è il sacco Che è una battuta Però forse è una cosa un po' pesante Devo dire No lui credo Se la si è presa Per il fatto dell'arte Per il fatto dell'arte Perché di prego Grande critico Guardalo Guarda che fa Sembra tipo Un super cattivo Ma già uno che chiama Ogni cazzo di puttana Da marciapiede Opera d'arte mobile Beh Mi sembra che sia abbastanza palese Che non sia uno Che capisce troppo di arte No Beh ma perché Se c'è l'arte mobile Andiamo a vedere Un nuovo Iscriviamo un nuovo concetto di arte La vagina della prostituta È una forma d'arte Che tu non vivi con I tuoi occhi Non vivi nemmeno tanto con il tatto Ma vivi col tuo pene E praticamente Scavando all'interno Dell'opera d'arte Senti Una scultura Incavata Che massaggia il tuo pene E la percepisci con quello È questo che intende di pre Non credo proprio Io a questo punto me ne vado No Beh intanto me ne vado No me ne vado Me ne vado Perché Perché non Non lo accetto Cioè quando Si mettono di mezzo Le cose dell'arte Non lo accetto Ci tiene all'arte Ho impiegato 10 fottutissimi anni Per crearmi Un'identità Stratosferica Dell'arte Stratosferica Un coglione Che si nasconde Dall'anonimato Che mi offende Avvocato Si calmi E questo è un coglione Perché io sono qui Per divertirmi Per fare una festa Glielo faremo sapere Accetto di stare Con tanti Sigla Sigla Che Che scena patetica Sì 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 Poi ho di prendere Anche su un altro programma televisivo Che ce l'ho Però non l'ho messo in scaletta Ce lo teniamo Si aveva incazzato di brutto Anche in tv proprio Lui si altera Ma a me non sembra comunque Realmente arrabbiato No ma lo fa per far scena Sì certo Lo fa per far scena Sì Sgarbi È più onesto Secondo me Nelle sue reazioni Cioè almeno all'inizio Secondo me Poi adesso ha capito Come ogni 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 cristiano Ci marcia sopra Perché ormai Questa non la L'intrattenimento del web È diventato questo Per tutti Anche per la tv Perché la tv Sta cercando di imitare Questa cosa La reazione immediata Quella naturalezza Da reality show Via Che alla fine È anche I primi reality show Una volta che capivano Come funzionava il meccanismo Cioè Tutti ci giocavano sopra Cioè nel reality show In realtà è cheap show Metti quattro coglioni Devi fare un cazzo E devi solo un premio Alla fine E con un niente Hai fatto un milione di persone Che guardano Sì quattro coglioni Che bella generazione Comunque Ho anche Un classico Questo è Questo è vecchio Questo Questo è veramente vecchio Beh io non lo conoscevo Quest'uomo Neanche io Senti un po' Johnny Merda Cagarella Johnny Merda Cagarella A proposito di gente Che si altera Questo è il caso Io Non so chi cazzo sei E né da quale Buco di culo Sei uscito fuori Questo è un figo Già con quel nome Dici tutto Comunque posso dire una cosa A me In questi video Mi piace Sempre guardare anche Lo sfondo L'ambientazione Perché questo Tipo Non so Sembra un po' Non so Un deniro dei poveri Non lo so Sto facendo tipo Un monologo così minaccioso E dietro c'ha la tapparella Il cif Che si vede lì dietro La cucina Cioè Non lo so Ma perché Fai i coltelli qua dietro Che sanno E che poi La sua performance Secondo me Per essere un idiota A muzzo Non è Nemmeno così orribile Secondo me In certi tratti Almeno nella creatività No beh Nel senso Non scopro dove vivi Dove abiti Il pathos Tu prega che io non sappia mai Dove stai Che poi è l'aspetto Che tradisce Cioè Lo vedi Ma io devo andare Se lo vengo a sapere Lo vedi questo Lo vedo Lo vedo Il Miracle Black Sono circa 30 centimetri Minchia Ti piacerebbe Avrì da qualche altra parte 30 centimetri Di dimensione artistica Capito Io te ci apro Questo Te ci apro Non vedi De Roma questo Secondo me È una bella lama Eh sì Pensa quando Quando te becco A quello che ti succede Minchia Ci stava tremando Calcola che io Sul Taseia Non ci starò per molto Ma non si direbbe Però ci siete Da molto tempo In ogni caso Calcola che io Ricomincerò a camminare Perché non camminare Pertanto Un bel giretto Per la Sicilia Me lo faccio Quindi questo è un disabile Che minaccia qualcuno Con un coltello Primo o poi Minaccioso E capiterai a mano Quel giorno Prega che non venga mai Prega che non venga mai Prega Prega Perché è l'unica cosa Che ti è rimasta da fare Non immagini Quello che sto provando In questo momento Sembra una scena Tratta da Tipo L'onore Il rispetto Guarda che ci sono Mi viene in mente Il doppiaggio Dei vecchi film italiani Tipo anni 90 Quando provano a doppiare Attori seri Che mettevano Questo stare Identico patos Nelle cose No a me sembra Che c'è Alla fine come doppiaggio Cioè Nel senso I film doppiati in italiano Sono abbastanza Verosimile A me sembra Proprio le telenovelas italiane Le fiction italiane Quelle Ma i doppiaggi È meglio Ho visto qualche film vecchio E Ho rivisto Ieri ho rivisto Cazzo Non ho rivisto Ho visto per la prima volta Che è una vita Che volevo vederlo Il grande Il grande Le boschi Il grande Le boschi Ah già Sì È doppiato veramente Veramente di merda Ed è un film Degli anni Del 98 addirittura Ma va È così recente È così recente Pensavo fosse più vecchio Anche io Vecchiato ma Ed è un bel film Comunque A me è piaciuto tantissimo Tu l'hai visto? Avevo visto Anni fa ma non me lo È da rivedere Secondo me Perché Voglio vederlo di nuovo Io A me un'altra volta Voglio vederlo Perché è uno di quei film Che È strano Ha una narrazione Tutta bizzarra Perché È astavati la trama Fra virgolette No ogni volta si scopre È una commedia Per carità Ma ogni volta Viene poi un nuovo strato E cambia idea Sulla storia Ed è un film Che non si dà Non lo so è strano Perché finisce E dici Non è che non finiscono Gli avvenimenti Gli avvenimenti si chiudono Ma dici Quindi Cioè non lo so È strano È come È una metafora È una metafora Della vita Fra virgolette Tu ti aspetti sempre Che Qualunque cosa fai Qualunque sia la tua situazione Alla fine Debba esserci Un'utilità Fra virgolette E nei film Ci insegnano questa cosa Perché Ogni cosa che leggiamo Ogni cosa che vediamo È sempre così È sempre una cosa del tipo Ok C'è questo C'è questo C'è questo Però alla fine è così Invece lì Finisce Non so come dirlo Semplicemente finisce I protagonisti Non imparano un cazzo di niente La storia in sé Non ha portato Un litofine Ma neanche una fine drammatica Ah Cioè è strano Finiscono gli avvenimenti Ma senza nessuna conseguenza Forse Il protagonista Non ha imparato una lezione Il corpo C'è Capito cosa intendo No? Sì 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 È inconcludente È inconcludente Ma non in quel Inconcludente Che ti fa stare male Fra virgolette Che sei quei film inconcludenti Sì 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 Quindi concludente Che dici Ah ecco qual era Tutto lo scopo del film Nessuno scopo Eh sì E però a me è piaciuto molto Devo dire che Non riguarderò Devo riguardarlo anch'io Devo forzare la mia femmina A guardarlo Perché non le piace Il trailer non le è piaciuto Ma tanto ho ragione io Quindi obbligo tutti A guardare quello che dico io Perché io sono l'unico Che ha buon gusto In questo paese di merda È come se ci avessi Un'esplosione d'odio Talmente forte Ecco vedi Talmente forte Che probabilmente Sei la seconda persona In tutto il pianeta Che odio dopo mio padre Ecco qua la scena Centrale Sì sì da film Pensa a che livello Sei arrivato Per rompermi i coglioni Mamma mia Oddio Pensa a che livello Sei arrivato Per rompermi i coglioni Non lo possiamo sapere Se non ci dici Qual era il rapporto Con tuo padre Esatto È un po' inconcludente Anche lui Mandiamogli un messaggio Per parlarci Del rapporto con suo padre Ci parli del rapporto Con suo padre Col coltello Io non lo so Non lo so Ah ok Non so se ci riesco a trovare Ah ok Ah un giorno mi divertirò Oh se mi divertirò Vedi Vedi Ci stanno due cose Che forse la gente Non sa Ma se l'hai scritta Stato Il genio può essere Di cose incredibilmente Belle e costruttive O di cose talmente brutte Che ne manco Ne manco Neanche il peggior scrittore De film dell'orrore Potrebbe immaginare Sare le cose Oh cazzo Io se fosse Sonni merda calpella Avrei già smesso di guardare Si sarà già cagato addosso Cazzo Ma è qua che inizia A diventare interessante Però Non ci facciamo un film Ma una saga Una saga Prima di tutto Faccio una bella cosa Cosa? Procuro un bel po' di sangue Del tuo gruppo Ah quindi prima le deve anche chiedere La cartella clinica No prima gli ruba La tessera sanitaria Non c'è scritto Non c'è scritto sulla tessera sanitaria Perché no? Eh devi avere delle analisi Che attestano il tuo gruppo Non c'è È una cosa che sarebbe da scrivere Sì infatti Ad esempio nella carta Diamo questo spunto Ai nostri politici Scrivete sulla carta di identità Anziché l'inutilissimo Segni particolari E c'è ancora segni particolari Non lo so In quelle nuove no eh Va bene Quelle nuove sono elettroniche No ma minchia davvero Mettete il cazzo di gruppo sanguigno Stampato da qualche parte Io non lo so il mio gruppo sanguigno Io lo so perché Ho chiesto io di farmi Di farmi le analisi Te lo fanno quando nasci Però potrebbe essere Falsato dal sangue della mamma Ancora in circolo Ah sì? Sì E quindi lo devi Quindi quando fai un incidente Prima di farmi una trasfusione Devo farmi Devo farmi un esame In poche parole Per scoprire che Sì o ti mettono lo zero Che va bene con tutto Ah è vero Lo zero è jolly cazzo Oppure Tra l'altro La mia femmina Lavora Cioè non lavora E fa la volontaria A dei tizi che donano il sangue Cioè non è che donano il sangue Lavora nello staff Come si chiamano quelli lì Volontari Sì ma non è quello È un altro No Vabbè È una cosa molto nobile Eh sì E io cosa ho fatto Io che sono astuto no? Quando volevo Ficcarle dentro il pene All'inizio E lei mi fa Eh dobbiamo fare un video Per Abbiamo girato un video Pubblicitario Per Le donazioni E ci serve qualcuno Che lo monti Ah 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 Indovina un po' Chi è che sa montare i video Un pane per i tuoi denti Esatto esatto E quindi Le ho fatto Senti Se vuoi ti monto io Il video Il video Poi nel messaggio dopo Il video E Il rumorismo Becero E poi ha funzionato Perché è venuta a casa mia E ho montato prima lei E dopo un due o tre settimane Anche il video E praticamente ogni volta Facevo tipo Un click Sul video Poi mi giravo E trombavamo Tipo per ore 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 E poi ho andato avanti così Poi un po' Finché mi ha detto Senti dobbiamo fare Sto cazzo di video Perché devo farlo davvero E mi ha obbligato a farlo davvero Ma sei sicuro Che lei voglia Che racconti sta cosa Eh Sei sicuro che lei voglia Che racconti sta cosa Ma tanto non siamo in diretta Non importa E lo tengo anche Perché non lo taglio Ma sì Questo si può dire Lei mi ha sempre detto Puoi dire tutto Tranne Tranne le cose brutte Ah ok Questa non è una cosa brutta No è solo il modo In cui tu ti approfitti Non mi sono approfittato di nessuno Non è che Non è che è stupida Non è che non lo sapeva Sì Sapeva benissimo Questa stava per succedere Anche perché non è la prima volta Che ci vedevamo Quindi ahhh Poi ti porto in un bel posto Dove nessuno ti può sentire Vedi è il cinema tipo E lì comincio A spellarte piano piano Te scorti Ma che l'ha fatto questo Dopodiché passerò a staccate Piano piano Le rotule delle gambe Con questo Comunque se non vuoi essere preso per il culo Questo qua è il moro peggiore Perché scusami Eh sì sì Ovvio così All'epoca Non c'erano all'epoca Quindi se quanto l'hanno preso per il culo Cazzo Eh Eh Poi dopodiché Dopodiché Piano piano Sempre facendo delle trasfusioni De sangue Poi vedi mi ricorda delle cose Che dico anch'io Che stile tagli inutile Eh ma sono quelle cose Che dico anch'io E quindi mi ci rispecchio un po' Vabbè tipo Quando uno è tanto preso da lì Anche io dico Minchia prima ti ammazzo Poi ti resuscito E poi ti ammazzo di nuovo Ma no io invece avevo fatto anche un canale Che si chiamava Mi ha fatto dovuto tre video solo Perché erano troppo difficili Ma ho capito Quello delle torture Sì 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 E io godevo proprio raccontare A raccontare delle torture Cavolo E quindi sentire lui Rivede un po' il giovane Locke Ma magari tu lo facevi meglio Che questo qua Beh sì io avevo anche la lavagnetta Mettevi tutto questo pathos Eeeh Aspetta un attimo Possiamo guardarne uno dopo Come E' pur sempre un video trash Tanto Com'è che era? Mi ricordo che una volta Avevi detto Un uomo molto sporco Sì Eeeh Facciamo andare avanti lui intanto Sì sì Te strappo via le dita dai piedi Con le pinze Così piano piano Mentre stai Morendo Soffri pure Ma non ti preoccupare Che con tutte le trasfusioni Che te faccio Ed è prima che credi Passerà una settimana E maledirai il giorno In cui hai fatto quel video Hai capito pezzo di merda? Questa è una promessa Che faccio davanti a tutti I veri di Youtube Cioè la faccio davanti A un milione di persone Eeeh Sicuramente avevo Un milione di persone Che lo guardavo E' un po' il fatto Che dove non sono arrivati Nel Manimarco E negli altri Ci sei arrivato tu Il testa di cazzo Il testa di cazzo E questo Ti ha messo sotto Un altro piano Beh poi la performance Non è così da incompetente Secondo me Pensa a quando Fa finta No ma per una fiction Italiana va benissimo Pensa a quando fa finta Giuseppe Simone Cioè c'è proprio un abisso Però sto qua Giuseppe Simone Come performance Cioè E comunque Mi sta intrattenendo a me Non so come dire Mi piace ascoltare Beh mi annoio Ma come tu che sei una fanatica Del trash Quello dei nemici Che non perdono Però è quel tipo di trash E nella vita E nella vita Io ho soltanto un altro Comunque Tu e anche con te Anzi E' il contrario Che c'avevo con lui Su di te Mi rifaccio Eh Mi rifaccio Ma mi rifaccio Dell'odio Che c'avevo su di lui Anche con te Ah del padre Anzi E' il contrario Che c'avevo con lui Su di te Eh Tu che hai detto Coglione Dai che poi ti fa Un video di risposta Fino a quel momento Fino a quel momento Ti conviene Non rompere i miei coglioni Con altri messaggi Boh basta Hai rotto il cazzo Sì abbastanza Il seguente video Un'occhiattina velocissima È tutto ironico Non ritrae In nessun modo Alcun progetto O idea reale I contenuti del video Potrebbero non essere Adatti ad un pubblico Sensibile E non sono realizzati Su reali basi Scientifiche O mediche Vero male Che la specifica Che faccia strana E oggi Andrò a illustrarvi Un'idea Un po' particolare Insomma Beh si è realizzato Molto meglio Il feciennegatore O-Matic 2000 Questo dispositivo Servirà Trattare Come si deve Tutti i vostri amici Più cari Dattori di lavoro O gatti Che disturbano E buttano a terra Le cose Feciennegatore Oh ma quello lì Del gatto Che facei tinta Di Ecco Quello è Il cane Che mi ha bannato Due parti È bellissimo Perché la tua La faccia Nel tuo gatto E la capsula In questa capsula Dovrete alloggiare Il vostro ospite Come potete vedere La capsula È semplicemente Un cubo Un cubo di Un metro e sessanta Per ogni lato In questo cubo Possiamo Comod... Un che succo E metterci dentro Uno che... Un tizio che Si annega nella Sua stessa merda Che bello Andate a vedervelo Sull'angolo di Locke Uiii Avevi un sacco Di fazzoletti Sul letto Nello sfondo Ah si? Si mi sembra di aver visto Ah si? Mio padre si Ah si E chissà cosa facevo Con quei fazzoletti Fa vedere? Dov'erano? Prima quando il gatto Si ha buttato Tutte le cose Si aveva visto Ecco il cubo Spesso voglio vedere I fazzoletti Ed ecco il nostro ospite Allora La... Dov'è che il gatto Trave Il vostro ospite Qua? Fin dietro? Ecco Ah è vero Ai 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 No questi li usavo Per la lavagnetta Li usavo per la lavagnetta Etta danda Cosa pensi? Sempre a pensare male di Locke Solo perché si masturba copiosamente Copiosamente E lo ha sempre fatto Ma la faccia di male Anche fosse Anche fosse Sai cosa ho tolto di qua Prima che arrivassi tu Perché so che sei una signorina Un pezzo di scottex E non mi vergogno Di avere Un pezzo di scotte Dov'è quello pulito Che mi serve per dopo Qua l'altro Non lo ho conto Ho tolto anche quello Ah no ce l'ho qua Questo mi serve per dopo Lo metto lì Perché io non mi vergogno Di autocompiacermi Ok? No vabbè Per farti notare La mia attenzione Sui dettagli di sfondo Certo E adesso passiamo Alla parte delle news Per cui non ho un intro Quindi adesso Danda Farà la musichetta Del TG5 Vai Aspetta com'è Non so se Va bene È quello il TG5 No non lo so Poi è l'unica È quella che mi rimane Più in mente Quindi non so neanche Se è il TG5 Poi è la musichetta Sì sì Quella classica Che sanno tutti Allora Le donne che protestano Contro Trump Ok? Ok ho già fatto un video Però a me sta sul cazzo Io non l'ho visto Sai il tuo video? Non l'hai visto? No Perché tu non guardi mai I miei video ovviamente Che sei una merda Non ho avuto da fare Eh certo Tipo sentiamo Sto leggendo un libro Bruttissimo Che mi hanno regalato a Natale È davvero un cesso Quel libro Ah ok E che libro è? Si intitola È autoprodotto Allora me l'han regalato Con le migliori premesse Perché hanno detto È uno scrittore Che si autoproduce E niente Va lui lì Di libreria Che non sempre Non sempre Cosa serve andare Di libreria In libreria Nel 2017 Scusa Perché lui Ci tiene a pubblicizzare Il suo prodotto No? E mio cognato E mia sorella Si sono Si sono interessati E hanno comprato E hanno comprato il libro Dopo aver parlato Con l'autore Gli ha fatto anche La dedica Ah ha parlato anche Con l'autore Si 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 E l'ha regalato Comunque adesso che Avevo un po' di tempo libero L'ho iniziato Vabbè adesso sono Ieri l'ho iniziato Sono arrivata più o meno A pagina A metà Mettiamo È un cesso È scritto Male Malissimo Fa schifo C'è una storia Che non è possibile Nella realtà È orrendo Non si capisce Come e quando Gli è venuto in mente Questa cosa È così È un romanzo È un romanzo Lui sostiene Che sia una storia vera Impossibile Perché ci sono anche Delle resurrezioni Un anello magico Cose davvero assurde Comunque l'autore sostiene Che sia una storia vera Comunque Devi parlare qua Di lato Comunque sia Vabbè Vedi che fa di più È un libro Orribilante Oh bene Sempre bello Apprezzare le gare di Natale E perché stavo dicendo Cosa c'entra con quello Ah per il TG5 Ah no perché Mi hai chiesto Che cosa ho da fare Di importante Ah è vero Per guardare i miei video Ho capito Non è assolutamente Sufficiente Come spiegazione Comunque vediamo un po' Queste donne Rischio di mettere fin d'ora In ombra La cerimonia di investitura Di Trump La manifestazione delle donne C'era meno gente Rispetto Obama Sì Giusto un ciccinino Sono a favore delle minoranze Vabbè che la prima vittoria di Obama Di Obama Era abbastanza schiacciante O sbaglio Eh Non mi ricordo più Però mi pare fosse una vittoria Oh cazzo Che cazzo è successo Eh no sto scaricando delle cose Da internet Allora fa Sono dei porno No No in realtà no 90% di volte ti direi sì Tranne questa volta Che è un gioco scaricato Illegalmente da internet Ma non devi dirlo Ah no? No Ebbene sì È un gioco Scaricato Illegalmente Dall'internet E contro il magnate New Yorkese Che in campagna elettorale Ha usato toni derisori Nei confronti delle minoranze A cavalcare l'onda Della protesta Anche celebrità Come Scarlett Johansson La regista Rebecca Rodriguez Scenderà in piazza E sarà La sua prima manifestazione Non lo so Allora Io ho capito Ma perché? Cioè Tu Danda Che Tu perché protesteresti Contro Trump? Cioè nel senso Alla fine Quello che dici in campagna Io ritengo che una persona intelligente Si renda conto Che soprattutto in America Che sono campagne elettorali Fatte sul sensazionalismo Non è che Si dice Perché hai bisogno di apparire Ok? Hai bisogno che si parli di te E ha funzionato la strategia di Trump Nel bene o nel male Basta che si parli di te Tutti i telegiornali Anche quelli che gli andavano contro Avevano sempre lui Trump 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 Perché diceva Faceva cose Che puoi non condividere Ma sono interessanti È una strategia elettorale Facendo così Gli vai solo dietro Perché carichi ancora di più Quelli che già hanno votato per lui Secondo me Può essere Comunque Ma lui Che cosa avrebbe La questione delle Famose chiacchiere da bar Che avrebbe fatto Sì Ma poi vabbè Le solite dichiarazioni Che fanno tutti i repubblicani In In campagna No? Un paio di dichiarazioni Contro l'aborto Sì Poi non so perché Da qualche parte in queste notizie Parlano anche della comunità gay Ma Donald Trump Ripeto di nuovo È il primo Presidente repubblicano Il primo Nella storia Dei presidenti repubblicani Che è salito sul cazzo di palco Con la bandiera LGBT Con la bandiera Quella della pace Classica E ha supportato E ha condannato Anche Sai che c'è stato Quella sparatoria Qualche mese fa Dove un tizio Ha sparato in un bar Frequentato da omosessuali Ah E Trump Un altro presidente repubblicano Magari sarebbe stato Semplicemente zitto Non avrebbe detto nulla Invece lui è andato proprio lì A dire Che Che supporta La community LGBT Che supporta I diritti LGBT E non è Un conto E pensarlo Perché magari Tanti presidenti repubblicani Non è che se uno A quel livello di politica È un idiota Tanti ci arrivano da soli Però Non hanno il coraggio Di andare sul palco E dirlo Perché sanno Che chi vota per loro Sono dei bigotti del cazzo E quindi devono Tendenzialmente Fare attenzione A quello che dicono Invece a Trump Fondamentalmente Non gliene è fottuto un cazzo E l'ha supportati Apertamente Poi l'altra argomentazione Qual è? Gli aborti Tutti i presidenti repubblicani Dicono sempre Che faranno qualcosa Per limitare gli aborti Ok? Sì Sto 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 come la legalizzazione del matrimonio gay ad esempio oppure la legalizzazione dell'erba ma nota che c'è la caramellona grande non basta una presidenza sola per toglierla intendiamoci Trump può fare tutto quel cazzo che vorrete ma non andrà mai indietro anche perché è troppo controproducente per lui cioè lui deve essere ancora eletto non può alienare completamente l'elettorato no no sta dando diciamo una direzione per il momento ma sì ma come fanno tutti io non capisco la differenza cioè forse è stato chiunque altro non c'era tutto sto casino quello che mi dà fastidio ma forse perché Trump è talmente così poco presidenziale sì esatto ma è che è per quello che ha vinto tendenzialmente sì sì incarna l'uomo comune che poi è più o meno comune perché cazzo ha una casa che è molto più lussuosa della Casa Bianca beh è la mia grande casa ma più case è molto più lussuosa della Casa Bianca sì sì infatti dicevano che io mi immagino che erano entrato e ho detto mica devo vivere in stabetto la porca puttana sì esatto poi non voleva vincere secondo me continuo a rimanere l'idea con le sue parole Trump incoraggia violenza e odio contro le comunità minoritarie della società però effettivamente è vero nel senso con il discorso che fa questa regista qui cioè se tu istighi cioè tu magari sei il presidente eletto sai che devi mantenere quel personaggio lì almeno per un po' però effettivamente magari tu non creerai dei chissà che danni però magari l'invasato che ti segue si sente legittimato dalle tue parole di odio ma queste parole di odio devo sentirle nel senso sì ha fatto dei discorsi del cazzo però attaccava piuttosto le singole persone tipo ha preso per il culo il giornalista disabile ha fatto ma anche il culo che faceva tipo una roba del genere ha fatto che poi con un figlio così poverino anche il figlio ha dei problemi si vede non credo abbia dei problemi più di Trump sei tu che sei convinta secondo me no vabbè comunque sì diciamo che non ha molti filtri però non ha mai istigato direttamente all'odio ha minacciato di morte di Larry Clinton attraverso le armi da fuoco ma sì però hanno sempre cose più dirette a persone individuali però ad esempio quella balla che avevano montato su che c'era il covo dei pedofili nella pizzeria lì uno si è effettivamente incavolato ha iniziato a sparare il covo dei pedofili nella pizzeria avevano messo in giro la voce sempre durante la campagna elettorale del presidente ma sì quanto tempo fa questa me la sono persa diciamo eravamo forse già in dirittura dal Rio per le elezioni comunque aveva detto che vabbè magari non lui direttamente ma qualcuno del suo entourage tramite sti siti che pubblicizzano bufale è mai fatto che è come dire allora Putin ha detto tutte quelle cose sull'Italia ovvio che no ma se uno pubblica una bufala appoggiandosi a Trump non è colpa del senso vabbè era una cosa che diciamo era manovrata dai suoi del suo entourage in qualche modo è venuta poi una cosa grossa avevano detto che praticamente la Clinton e altri democratici avevano come base questa pizzeria ah erano dei pedofili ah sì 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 mi ho perso il dettaglio della pizzeria però sì perché lui per rispondere alle accuse che molestava le donne ha detto a loro che hanno dei pedofili e loro molestano i bambini esatto eh ma infatti ma ti pare normale? no 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 poi in campagna elettorale vale tutto però se poi un pazzo si mette a sparare veramente beh a Obama dicevano che era un terrorista e un musulmano e che voleva distruggere l'America per intenderci per andargli contro ma la cosa bella è che all'epoca anche Hillary Clinton aveva messo in giro delle voci su Obama per diciamo ma io non è che giustifico uno in favore dell'altro no il fatto che è una cosa che c'è sempre stata c'è sempre una novità non sta cosa sembra che eh no prima di Trump tutti i politici erano bravi ma no corretti ti sono sempre detti cose del genere sì ma magari è il caso di finirla insomma lo fa in modo molto più teatrale e non ha quel linguaggio tecnico no? mentre gli altri magari utilizzavano quel linguaggio un pochino più il politichese no? parlavano erano più educati nell'accusare fra virgolette Trump dice proprio che sei una puttana e ti dice che sei una puttana che non è effettivamente l'atteggiamento che deve avere un presidente ma a me fa ridere quindi ma che ti faccia ridere ma lui è a capo della di una potenza mondiale non dovrebbe far ridere ma a me fa ridere ma vediamo secondo me cambia poco io sono dell'idea non cambia un cazzo o questa cosa fa 4 anni non cambierà niente non cambia un cazzo di niente se poi lui e poi anzi farà solo altri discorsi più buffi ancora quindi ci guadagnerebbero solo in entrettenimento alla marcia di sabato a Washington DC parteciperanno circa 200.000 persone una trentina di gruppi sono autorizzati a manifestare prima, durante e dopo l'investitura di Trump comunque non è una dittatura perché potete ancora manifestare le donne saranno la più grande spina nel fianco di questa amministrazione l'idea è stata di Teresa Schuch non è avvocato in pensione che si è ritirata alle Hawaii quando la vittoria di Trump è a Passa Chiara Teresa ha lanciato l'idea su Facebook ed è subito diventata virale a irritare le donne americane non solo l'atteggiamento e le parole del magnate new yorkese nei loro confronti dichiarazioni di qualche anno fa criticate dalla stessa moglie Melania Trump in un estremo tentativo di salvare il salvabile intanto in giro per il mondo si organizzeranno marce gemellate ce ne saranno oltre 600 e coinvolgeranno oltre 1.300.000 manifestanti si ho capito ma tu stai protestando perché ha fatto cioè non capisco il senso della protesta in ogni caso perché ha fatto delle battute ma cioè sì ci sono anche le altre motivazioni poi il motivo fondamentale perché ha fatto delle battute sessiste ok? si ed è il caso di manifestare perché uno ha fatto delle battute sessiste? la manifestazione è un'espressione della democrazia quindi no no certo fanno bene a manifestare l'ho anche detto nel mio video per carità è un loro sacrosanto diritto però secondo me tutte queste manifestazioni fatte a caso tolgono valore alle manifestazioni che ci si dovranno fare quando magari fai una cazzata vera hai capito? se tu parti Trump ha detto che gli piace la figa ok il giorno che fa qualcosa di grave il tuo Trump ha buttato una cazzo di atomica sull'Europa avrà lo stesso sapore del Trump gli piace la figa no perciò che urta i propri sentimenti personali esatto ma non dico buttare un'atomica ma altre manovre politiche fatte da altri guardate che Obama ha ammazzato molte più persone di Bush con gli attacchi droni con i suoi movimenti militari Obama ha ammazzato molte più persone di Bush ma nessuno sembra tirar fuori troppo questa cosa ma vabbè andate a vedere negli anni gli attacchi con i droni moderni di quanti cazzo di persone hanno ammazzato cioè non dico che non l'avrebbe fatto Bush l'avrebbe fatto anche lui con gli stessi mezzi per carità però tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America hanno in mano una macchina di morte e tutti i presidenti la usano però gli americani si indignano più per delle stronzate perché sono delle stronzate queste per battute per cose che sentono più vicini a loro perché ti offendono ma che muoia qualcuno dall'altra parte del mondo perché loro devono esportare la democrazia non gliene è forte assolutamente un cazzo gli americani erano i primi ad andare dietro Bush quando c'è stata la guerra perché hanno avuto una reazione emotiva stupida e illogica ok però all'epoca nessuno lo criticava anzi all'inizio gli dicevano è forte è forte ma tutti anche quelli che adesso magari si definiscono democratici tutti ragionano col cazzo con la figa e nessuno ragiona col cervello ed è per questo che secondo me si sprecano queste manifestazioni non lo so mi sembra uno spreco del diritto alla manifestazione perché togli valore alle manifestazioni vere un po' come la comunità nera americana che è passata dal manifestare seriamente per i loro diritti ci sono persone vive oggi che non potevano sedersi nello stesso posto sul pullman dell'uovo bianco non potevano venire dalla stessa fontanella che adesso invece diciamolo nel mondo del lavoro nel mondo delle regole normali poi ovvio che c'è il datore di lavoro stronzo razzista ma quello non puoi farci nulla non c'è legge al mondo che tenga ok si devono vedere adesso le comunità che manifestano perché un attore ha detto negro una volta la gente che si indigna e si incazza per ogni minima cosa perché sono delle vittime ci sono ragazzini viziati di colore che si sentono delle vittime perché loro bis 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 non è uno schiavo cioè e si sentono in diritto di avere qualcosa in più per virgolette quindi sta andando nella direzione opposta e le manifestazioni si stanno trasformando da qualcosa che hanno dato grandi risultati a qualcosa di patetico cioè adesso non possiamo far vedere in sto podcast perché tutto l'inglese diventa pesante ma ci sono anche le femministe che stanno diventando una cosa veramente veramente patetica adesso anche lì femminismo che ha lottato per qualcosa di importante si vede degli eventi con centinaia di persone che guardano delle tizie su un palco che fanno delle specie di poesie ritmate malissimo dove parlano di quanto il costume di Halloween di quest'anno fosse troppo sessista perché il costume di Halloween da donna è spesso sexy però voglio dire è così perché la posizione di una donna che non è d'accordo ad essere vista come oggetto sessuale è non comprare il costume sexy esatto e invece no ci sono delle manifestazioni contro queste cose capisci mica puoi imporre a una di non vestirsi la zoccola appunto è contrario al femminismo è proprio contrario al femminismo e a me dà fastidio come la manifestazione che secondo me è uno strumento importante venga usato in questo modo per ogni minima cazzata e anzi accolga più manifestanti per queste cose perché se scoppia una guerra se scoppia qualcosa di serio non ci saranno 200.000 donne in piazza scommettiamo ma io spero di non arrivare mai a vedere il risultato la guerra la vedrai Danda non ti preoccupare non voglio vederla ci sarà la guerra e tutti i tuoi amici maschi a cui tieni tanto andranno in guerra e moriranno io per primo io per primo mica io duro due secondi in guerra figurati quindi e questa è la cosa che mi turba non dico che non debbano manifestare dico solo che cazzo fate troppo rumore che grida al lupo al lupo e la volta che c'è il pericolo davvero non vale un cazzo la vostra manifestazione perché ci siamo abituati ormai non è più una cosa che urta il pubblico diciamo dei tizi che manifestano in piazza ormai manifestano per ogni cazzo di cosa ed è per questo il ragionamento mentale è questo che mi infastidisce è un insieme di cose che fanno c'è anche Roma noi che abbiamo adesso voglio vedere se ci sarà più gente a questa manifestazione o allo sciopero del primo febbraio del settore delle telecomunicazioni cazzo no adesso voglio vedere perché mi incazzo perché mi incazzo adesso perché adesso tutti andranno in piazza per essere solidali con le donne americane che a quanto pare poverine gli hanno tolto chissà quale diritto fondamentale ma voglio vedere quanti saranno solidali col cazzo di settore delle telecomunicazioni che va in merda che dà lavoro a migliaia e migliaia di italiani che porta il pane in casa a migliaia di famiglie quello quello non va bene cazzo quello non va bene supportarlo perché sono dei piccoglioni che ci telefonano e basta vero però per le donne americane tutti a Roma a manifestare cazzo quanto urli e no scusa mi sono arrabbiato però eh no comunque è una nostra tendenza è una nostra usanza manifestare contro le cose inutili non dico che sia inutile per carità ma è superficiale scusami tanto ma in Italia è un po' inutile le donne americane magari non sapranno neanche in Italia è proprio completamente inutile cioè è proprio una stronzata poi lo mettono tanto su Facebook e quindi e quindi è così ma la piazza della scala alla stessa ora ma ci saranno marce di sostegno anche in paesi come il Myanmar la Colombia l'Arabia Saudita meno male cazzo ne hanno proprio bisogno tra gli attivisti più popolari il gruppo di ragazze è californiano che fanno a mano i capellini rosa fucsia da indossare sabato io io farei cosa farei protesta ma con stile no io farei una cosa i bambini che gli americani stanno sfruttando per fare il cazzo di palloni della Nike per un giorno gli farei fare i capellini rosa per la manifestazione eh? secondo me ci sta guarda che se perché nessuno protesta per i bambini sfruttati della Nike anzi in realtà Trump fra le sue piattaforme vuole partornare più lavori in America ed eliminare parte di questo sfruttamento questo è buono sì infatti quello è l'unica cosa dove anche tutti quelli che hanno un minimo di buon senso almeno sul fatto che vuole si chiama l'accordo NAFTA NAFTA non credo c'è un accordo che avevano fatto all'epoca che aveva fatto Clinton che io amavo Clinton come presidente ha fatto solo quella cazzata alla fine che funziona di merda che è l'accordo che ha esportato un sacco di lavoro per gli americani e ha creato un po' questo dato origine a questo mercato dello sfruttamento anche a livello proprio umano perché il segreto signori non è che se esportate il cazzo di lavoro sotto costo risolvete il problema come azienda ne create solo uno più grande di un altro paese poi in effetti il pubblico che ti compra il prodotto non lo vede perché non è nel suo paese e quindi poi è contento perché paga 10 euro di meno il pallone della Nike ma che lo paghi di meno è tuttora di Mosè perché tu comunque non lo so se poi effettivamente lo pagheresti di più se fosse prodotto in America perché la Nike avrà un margine di guadagno stratosferico credo ah sì sì sicuramente alla fine il consumatore si è vero il consumatore si lo piglia comunque nel culo perché è l'azienda che si prende il margine di guadagno più grande non so chi cazzo pensa che il capitalismo funzioni in modo che le aziende abbiano tipo un cuore un sentimento che dicono a un certo punto no però umanamente parlando troviamoci un po' di profitto per far risparmiare i clienti o per far guadagnare di più il dipendente no senza le regolamentazioni del governo non funziona il capitalismo cazzo tutte le volte che dico ne abbiamo fatto abbastanza leggo qualche nuova stupidaggine di Trump e mi dico che devo continuare a lavorare a maglia in modo che tutti possano indossare un cappello fucsia brava cazzo facciamo indossare tutti un cappello fucsia non fare dei cazzo di maglioni per i barboni in America che ne avete 10.000 nuovi ogni giorno effettivamente un po' fino a se stessa che devo manifestassero in modo più incisivo nel senso non quei cappellini fucsia e no credevo ce l'avessero di più col fatto che ness dell'aborto cioè che il fatto che nel 2017 l'aborto venga ancora messo in discussione è abominevole ovvio ma io sono d'accordo ma i repubblicani quello sono i repubblicani sono il passato che provano e provano un po' a raschiare il futuro no? ed è sempre stato così e sempre sarà così finché è un partito che magari prima o poi morirà o si evolverà ma in America dubito col sistema che hanno il fatto è che il 90% delle donne che sono in piazza lì sono lì perché hanno il cappellino rosa perché ci vanno tutti e lo mettono su Facebook vabbè ma aspetta te lo danno gratis il cappellino rosa sembra di sistema allora anch'io vedi cazzo mi piace un casino quel cappellino del pussy hot una protesta femminile che si è fatta qua è dopo la protesta anche l'Europa è scesa in piazza contro il ah l'ha già fatta si è 21 la voce delle donne partita da Facebook è rimbalzata da paese a paese coinvolgendo anche uomini giovani e non decine di migliaia di persone in corteo a favore dei diritti delle donne ma anche degli immigrati dei disabili e della comunità gay nella city imponente ma avesse fatto è quello che mi turba cioè più che altro non ha ancora fatto niente esatto esatto è stato un po' come dare ad Obama il premio Nobel per la pace sulla fiducia ti ricordi che all'inizio gli hanno dato il premio Nobel così non aveva ancora fatto un cavolo gli hanno dato il premio Nobel esatto sulla retorica sono vedi uno è stato premiato sulla retorica e l'altro viene punito sulla retorica ma pensateci un attimo cazzo è una strategia elettorale è ovvio che un repubblicano dice stronzate vediamo cosa fa ha fatto delle scelte per il suo governo che fanno paura il vicepresidente è terrificante quindi speriamo bene però finché nessuno fa cazzate porca puttana da qui di tregua però è un po' anche quello che succede da noi in Italia il solito teatrino che quando vince uno nessuno l'ha mai votato eccetera tutti iniziano a dargli contro ancora prima che inizi a fare qualcosa però se fossimo un popolo sensato noi diremmo vabbè auguriamoci che faccia il meglio non è quello per cui ho votato io ma auguriamoci che faccia il meglio la gente non vuole quello la gente vuole indignarsi la gente vuole un bersaglio vuole un nemico poi dopo un quarto d'ora che l'hanno votato che ha vinto controllano fanno un saldo bancario vedono che il loro il loro conto in banca è sempre uguale sono sempre poveri non ci sono 5.000 euro accreditati a cazzo sul loro conto corrente e allora si incazzano e dicono no vogliamo un altro presidente noi siamo così gli americani mi so che ma sono come noi alla fine non è che sono dei beoti uguali è solo che proprio non lo so il senso di tutto questo cioè io fossi in Trump ah ok vi incazzate perché vi tolgo i diritti cazzo io mi ci metterei a quel punto solo per fargli un dispetto cazzo ma no vabbè non puoi metterti a fare dispetti se sei il presidente e Donald Trump ok è più probabile che ragioni come sto ragionando io adesso che come stai ragionando tu oltre quello che fa paura un po' la gente possiamo votare un manifesto l'ambasciata americana siamo qui per protestare contro l'odio e la divisione che propone Trump che propone nella piattaforma di Trump c'è scritto odio e divisione proprio nella piattaforma elettorale eh da Londra a Berlino gli slogan e i cartelli sono gli stessi giustizia di genere in particolare mica se quelli di Berlino Roma non hanno la minima idea di niente cioè lo hanno visto il post su Facebook ma poi allora a proposito di sta cosa che noi italiani manifestiamo per i diritti delle minoranze americane ok stamattina purtroppo non me lo sono screenshotato ho visto su Facebook una simpaticissima un simpaticissimo cartello che è comparso su un negozio credo in Veneto dove c'è scritto vietato l'ingresso ai negri cioè ma allora dove su cosa scusami che eh non mi ricordo la pagina in cui l'ho visto però è comparso sto cartello dove c'era scritto vietato l'ingresso ai negri in un negozio in un negozio di che città? eh ma in Veneto in Veneto però non mi ricordo la pagina su cui l'ho visto e cosa c'entra? scusami che non ti stavo ascoltando c'entra perché noi cosa cosa protestiamo per i diritti delle minoranze americane ah sì è vero noi siamo i primi razzisti con tutte le minoranze che abbiamo qua in Italia perché le nostre minoranze ci auguriamo che finiscano sotto le macerie dell'hotel a 5 stelle dove ubicano sempre gli immigrati l'abitato naturale l'hotel a 5 stelle ci auguriamo che tutte queste persone muoiano ma quelle americane no sembra quasi che il popolo sia manipolato da Facebook a volte eh io penso che lo sia questo cioè nel senso dipende da che poi dipende molto perché una volta che entri in un tunnel su Facebook funziona così no? sì io entro nel tunnel della disinformazione Facebook dice guarda questo piace la disinformazione gliene propongo ancora così clicchi clicchi e stai sul sito ah quindi forse a me arrivano sempre tutte ste robe perché a forza di commentare sì 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 perché funziona così tutti i contenuti con cui tu partecipi di più e stai di più sul sito Facebook li vede come money che entrano no? certo ogni minuto che stai in più sul sito sono soldi in più che prendono dalle pubblicità ok? ah ah e quindi cosa succede? succede che una volta che identificano cosa ti piace è più facile che te lo propongano tipo io che ho messo mi piace diverse pagine di videogiochi e seguo news di videogiochi su Facebook perché all'inizio io lo usavo solo per quello mi propone vedi post consigliato io a sto sito non ho mai messo il mi piace e cosa c'è? un'offerta per residenti vol 7 ok? sì 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 anche se io non ho mai visitato la pagina Facebook di questa cosa qua perché metto mi piace commento e guardo gruppi che parlano di videogiochi e lo stesso farà immagino con te che segui più notizie e cose del genere e quindi cosa succede? io odio io sono razzista odio gli immigrati Facebook inizia a propormi solo articoli di gente che odia gli immigrati e quindi io che già penso quello e leggo un sacco di articoli e dico cazzo tutti gli articoli del mondo parlano solo di quello perché non mi arriva una volta su 10 un articolo contro e quindi dico minchia sono coglioni sti qua tutti dicono che sono tutta colpa loro e sti due coglioni invece mi dicono di no e così si costruisce l'ignoranza perché è un strumento di comunicazione pericolosissimo Facebook perché l'obiettivo di Facebook signori ricordatevelo sempre non è informarvi Facebook non è un telegiornale anche se potrebbe esserlo come strumento per come è strutturato Facebook deve guadagnare soldi voi dovete stare sul sito il più possibile quindi fate attenzione che vi costruite pian piano un profilo e se voi siete dei mega fan dei 5 stelle vi mostrerà solo post dei 5 stelle mai di qualcuno di un altro partito che gli va contro o quant'altro quindi non usatelo solo ed esclusivamente come unico mezzo di informazione usate tutto internet perché Facebook secondo me è davvero responsabile delle masse di idioti al di là di questo proprio delle masse di idioti che si incontrano anche nella vita di tutti i giorni perché manipola e ti ti convince di quello in cui tu già credi ti dà informazioni anche finte ti rafforza le credenze esatto ma poi io mi chiedo ma come come fa alcuna alcune persone come fanno a credere a titoli come che ne so immigrato violenta la figlia di 8 anni il padre gli taglia le palle e gli le fa ingoiare ma io vedo gente che condivide bravo e voi nazionale esatto ma intanto la notizia non può essere vera ma ma come vi come gli viene in mente la gente che possa essere vera non lo so onestamente eh perché lo leggono su internet ecco tu immagina che hai sempre vissuto solo con la televisione no? quindi tu dai per scontato che ciò che vedi sullo schermo è vero ok? anche se anche la tv dice cazzate arrivi su internet a 40-50 anni e vedi un sacco di notizie le dai per bere io vedo anche ragazzi della nostra età anche più giovani eh lì è grave lì è proprio una mancanza di educazione della scuola non lo so esatto uno che ho fra gli amici di facebook che ha fatto un video sulla scuola e ha detto la scuola non vi insegna nemmeno a distinguere una notizia vera da una falsa non vi insegna cioè perché è un video su come la scuola non ti insegna è inutile perché non ti istruisce alla vita allora io non credo che la scuola sia inutile credo che all'impostazione sia sbagliato lui è uno che sta studiando per diventare insegnante quindi critica l'impostazione non dice che la scuola in sé sia inutile esatto dice solo che per come adesso tu arrivi a 40 anni che non ti ricordi un cazzo di cosa hai fatto a scuola e non ti hai insegnato nulla per carità però dovrebbe insegnarti a porti delle domande a pensare no la scuola non ti insegna a pensare lo so lo so perché fin troppi insegnanti premiano l'apprendimento mnemonico si 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 cosa che io sono sempre stata un asino perché non ho memoria io non una cosa come le tabelline ma io sono dell'idea che allora il 90% delle informazioni che ti vuole inculcare la scuola siano inutili tipo le date la geografia siamo nel 2017 ok guardate qua ho tutte le date e tutta la geografia vabbè non puoi contare solo sul supporto no invece si è il futuro e che cazzo ti scarica il telefono non sai più manco la tua data di nascita cioè no ma per le date e per le informazioni inutili del genere io della storia devo imparare i concetti non le date a me io non so le date io mi sono sempre rifiutato ritengo che sia la cosa più inutile dell'universo saper le date vabbè saper collocare gli eventi è un conto sapere a memoria la data è inutile è una cosa veramente le date e i nomi cosa cazzo me ne fotte me la guardo qua la data tu non la scuola deve tener conto di questo abbiamo internet che è una specie di è un specie di cervello globale di è un contenuto di informazioni gigantesco per tutti secondo te onestamente facessero la scuola oggi da zero con gli strumenti che abbiamo la farebbero uguale a quello che è adesso no è impossibile darebbero proprio certe informazioni per scontate perché dovrebbero se dovrebbe insegnare la scuola non dovrebbe insegnare la data dovrebbe insegnarti a usare bene questo dovrebbe insegnarti a usare bene un motore di ricerca per distinguere una notizia falsa da una vera e per andarti a cercare le informazioni tecniche come date geografie cose del genere in modo agile secondo me perché tanto se io mi imparo a memoria una data una posizione geografica oggi fra due giorni non lo so più è un'informazione che secondo me è completamente superflua per il cervello la lezione la storia deve insegnare una lezione non deve insegnarti un numero quella è la matematica cioè io devo finire la mia lezione di storia che ho capito il concetto fondamentale per cui nazismo e fascismo erano un problema in modo che non mi vedo su facebook dei ragazzi di 20-25 anni che mi condividono i post del duce ok che magari datemi 5 minuti che odio hai capito cioè quindi io avevo un mio compagno di classe che era un secchione di merda poi un secchione di merda che era un fascistoide non era una una persona pronta per la società era un cazzo di idiota di merda che non meritava nemmeno di esistere per quel che ne so io però prendeva tutti i 10 e la scuola lo premiava per quello che era sì sì no quindi secondo me è sbagliato boh basta basta hai ragione oh grazie mi sento meglio questi limiti sul corpo femminile sull'aborto ok ma cosa sono i limiti sul corpo femminile cosa vuol dire cosa mi rappresenta intendo solo però ho detto corpo femminile è l'aborto nei commenti se qualcuno è mi metta che cosa sono gli altri limiti legali sul corpo femminile cazzo ho paura che molti dei nostri diritti saranno cancellati fa notare questa cittadina americana minchia ma dove puoi pensare a una cosa del genere vabbè in realtà non si sente la testimonianza dell'amica americana si sente sì sì però si ha detto presidente in germania temo per la nostra democrazia ma sono anche fiduciosa perché ci sono tante persone presenti a queste manifestazioni quindi una tedesca ha paura che i suoi diritti in quanto cittadina vengono cancellati perché c'è Trump in America boh ma forse intendono più in senso esteso hanno paura che una politica come quella di Trump possa estendersi anche in Europa forse sì però è un po' cioè presto è presto per manifestare sì nel senso è molto e contro le affermazioni razziste fatte dal sessismo sì sarebbe molesti sessuali razzismo misoginia islamofobia ah sì è vero sta cosa è grave e come tutti i repubblicani non crede nel non crede nel nel sul riscaldamento globale come fa a non crederci? eh ma perché non è che non ci crede davvero secondo me però beh gli fa comodo non crederci grazie il grasso eh beh ipocrisia falsehoods non saprei come tradurlo conflitto di interessi vabbè un politico ultranazionalismo vabbè bigotto eh protezionismo che immagino intenda che vuole chiudersi in America ah eh parla come dittatori eh non si non si capisce demagogia demagogia vabbè nati nati se no vi vedo in piazza il primo febbraio pezzi di merda io prendo il coltello vedete questo lo vedete perché io vi trovo io vi trovo no non sai se li trovi no io non so io perché io adesso sono seduto ma poi mi posso alzare dalla sedia e quando mi alzo dalla sedia oh no ma non ho messo di me quando mi alzo dalla sedia voi non l'avete sentito un po' scorreggiato e poi mi porto vi porto un sacco di sangue del vostro tipo e vi scortico vivi col microfono sì sì vi scortico vivi col microfono e vi scorreggio in bocca finché non muovite merda ma beh abbiamo capito che tu ci tieni particolarmente alla manifestazione del primo febbraio ma in me in un unico motto il diritto delle donne è un diritto umano bello quel disegno di Trump il diritto delle donne è un diritto umano cazzo e finalmente è il momento che stavo aspettando in realtà anche l'altra intro per voi era nuova però questa l'ho proprio appena 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 fatta guardate ditemi se vi piace ti ricordi cosa abbiamo imparato all'adorazione in famiglia? chi sono questi? Adamo e Eva bravo e hanno ubbidito a Geova? no hanno ubbidito a Geova e non c'è rimasto male quindi cosa succede se disubbidisci a Geova e giochi con qualcosa che a lui non piace? discutendo e filosofeggiando l'ho fatta alla veloce l'ho fatta alla veloce vabbè poi aspettiamo un feedback dai nostri cari per gli spettatori allora cosa vogliamo vedere Marco Columbro su UFO questo sai chi ce l'ha suggerito? no la tua amica amiche esatto questo è stato suggerito da voi su Discord quindi ricordatevi di Discord io Discord non lo apro da tipo da una vita tu sei merda non fai niente di quello che ti ordino di fare quando lei dice che è in città eh? ah non l'avevo vista che sono anche i meme su Discord adesso quando lei dice che è incinta ma non hai rinnovato il passaporto guardate il Discord perché non si muove? ma che cazzo mi è arrivata adesso la puzza della tua scorreggia errori cos'è successo? oddio no che è successo errori usare queste altre questioni sembrerebbe fuori luogo effettivamente oddio ah ho messo Discord su VLC ci hanno hackerato? no sono io che ho messo Discord su VLC come ho fatto aspetta cos'è successo? ok l'amore è la vera forza che tiene insieme insieme all'universo senza ombra di dubbio gravità non c'è la gravità ma c'è l'amore quindi se tu odi tantissimo voli eh Dante l'ha detto non è l'amore che muove il sole eh ma si sa Dante era ovviamente uno scienziato e quindi studiare ufologia vuol dire studiare quella che è la forza dell'amore in un certo senso l'amore che è una forza che è in tutti noi e che è sparsa in tutto l'universo è accaduto nel 99 a New York ma è stato rapito andai con un gruppo di amici a seguire una conferenza di Hannah Hayes che è una contattista e all'uscita noi eravamo 150 persone in questo rettangolo di cielo new yorkese no? perché sai dice hai i grattacieli alti io chiesi a Hannah mi puoi fare una torre di sedia e poi guardando in alto vedi una sfera latiginosa che entrava in questo rettangolo un'altra e un'altra ancora formare un rettangolo e poi cominciarono a ruotare io dissi Anna Luca lei invece si lo so Luca mi faceva si e lei si si lo so si si lo so ma chi è Anna la sua amica lo so benissimo non lo so in amistà americana dice c'è uno romper al cazzo ha uno romper al cazzo lo so benissimo capito però era normalissimo noi rimarremmo essere fatti e poi si allontanarono uno a uno ruppero questa formazione e sparirono ma perché sarebbero qui? io credo sia una volontà multipla da un lato c'è la volontà di farci prendere consapevolezza che non siamo gli unici abitare questo condominio la nostra calassia grazie sì beh lo penso anch'io sì anch'io poi comunque Stephen Hawking ha detto che è molto molto più probabile che un contatto alieno sia ostile nel senso ha scritto un se sono come noi sicuramente ha scritto un articolo di recente dove non dovremmo assolutamente cercare il contatto alieno anzi ma allora secondo me se sono una società talmente evoluta da da riuscire magari a ad arrivare fin qua perché dovrebbero essere perché viaggiare nello spazio per quanto tu possi essere avanti con la tecnologia richiede risorse alla fine perché noi conquistiamo abbiamo conquistato territori di esseri inferiori di nativi perché avevamo bisogno di risorse fondamentalmente e loro vengono qua che risorse gli possiamo dare Marco Columbro no beh abbiamo il nostro pianeta confronto agli altri pianeti del sistema solare quanto è più più ricco di risorse magari il loro è ancora più bello che ne so beh tu stai hai delle presupposizioni però infatti questo è che c'è una teoria sullo sviluppo del sul naturale sviluppo energetico di qualunque razza in teoria che prima si passa dai combustibili fossili poi si passa all'energia alle fonti di energie rinnovabili l'energia solare solo che la superficie dove puoi raccogliere l'energia solare è ovviamente limitata beh certo finché non si teorizza che si arriva al punto da sigillare addirittura una stella per raccoglierne l'energia ma bello Peppa mi sembra esagerato vabbè sigillare intendo che gli fai un sacco di pannelli solari intorno un plexiglass intorno al sole un plexiglass intorno al sole praticamente però cresci 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 un giorno non ti basterà più ad alimentare tutto perché una fonte di energia per quanto è rinnovabile non è infinita la stella c'è l'energia che produce contemporaneamente quella quindi a quel punto devi muoverti devi spostarti se vuoi evolverti devi cercare altre fonti di energia speriamo almeno non siano troppo brutti sti alieni che se mi fan paura di notte io non so come reagisco mi cago addosso io spero prima di morire di almeno qualche documentazione vera qualcosa di ufficiale una dichiarazione del governo per davvero che esistano minchia è il mio sogno quello che voglio che succeda prima che muoia e gli alieni mi hanno sempre fatto paura e beh sì è normale che fanno paura cazzo sono alieni no però tipo anche il film E.T a me faceva paura fa schifissimo a me minchia ma E.T era orribile come alieni a parte che era orribile però in teoria doveva essere carino tenero no? non era carino tenero per me era spaventoso era spaventoso ma proprio quello è il bello del film secondo me che non sono andati nella direzione pucciosa dell'alieno c'erano andati un alieno realistico nel senso un alieno che non soddisfa e non se ritarono di bellezza ok perché scusami è tutta una questione di prospettiva se un pianeta è un'atmosfera diversa 99 su 100 la pelle quindi la parte che noi vediamo dell'essere vivente certo non potrà essere uguale sarà diversissima magari di un colore più scuro molto più probabile e noi il colore più scuro di pelle manco sul nostro pianeta li tolleriamo quelli più scuri cazzo figurati l'alieno poi magari smetteremo di essere razzisti fra di noi forse a quel punto diciamo meglio un negro che un alieno meglio negro che un alieno mia figlia è andata con un alieno cazzo comunque Columbo la pensa diversamente è talmente grande che sarebbe come fare un comino di 700 piani e una famiglia sola ci vogliono quindi dire amici siamo anche noi e siamo fratelli siamo fratelli non credo voglio metterci in guardia dalla strada che stiamo intraprendendo una strada che se portata avanti in modo discriminato può portare all'autodistruzione e per come ci stanno avvertendo che ci stiamo autodistruggendo comparendo così in America comparendo qui andando e invece con la tipa che fa oh ci saluta non vedi magari sono invece alieni femministe che manifestano contro Trump sempre in America sempre sono in America spuntano questi alieni no c'erano anche delle ce n'è uno in Italia di caso famoso se non sbaglio uh facciamo una rubrica sul podcast dove andiamo a vedere le abduction mi piacciono un casino con le storie a me fa un paura le storie di abduction che a Danda fa un paura la prossima puntata del podcast ne preparavo una di qualche stronzo su YouTube che la racconta e la commentiamo insieme per far paura a Danda e non farla dormire almeno per una settimana e questo nessuna entità che ha raggiunto il livello di spirito elevato vuole che un pianeta sia autogistruga perché vuol dire rompere un equilibrio cosmico non è vero si un pianeta non credo che abbia insomma chissà quale importanza all'interno di anche della galassia se la terra non fosse abitata per la galassia poi il sistema solare non cambia un cazzo di niente ma anche che la terra ci sia o non ci sia la galassia è una cosa gigantesca io sono convinto che una razza aliena estremamente evoluta un sentimento volgare un sentimento debole come l'amore lo abbia eliminato da tempo nell'evoluzione secondo me quello che noi abbiamo sviluppato come la coscienza il provare i sentimenti è quasi un difetto evolutivo perché per colpa delle nostre emozioni non sempre facciamo la scelta migliore per far sopravvivere la specie no io sono la prova evidente facciamo un esempio che a voi può sembrare estremamente crudele e disumano anche solo parlarne perché provate emozioni i disabili e le persone che geneticamente parlando hanno dei difetti ok nella natura umana quindi se noi guardiamo il lato più primitivo immaginiamo di essere in una tribù nasce una persona disabile diventa carne da macello per gli animali ok è un danno per la tribù è un gene che noi non vogliamo venga propagato e per questo per la femmina o anche per il maschio c'è una forte c'è molto disgusto nell'idea di accoppiarsi con con una persona con delle disabilità evidenti perché posso essere un animale posso essere una merda cioè io essere umano intendo però è nei nostri geni noi non siamo spinti dall'istinto primordiale nel tutelare geneticamente parlando questa forma di questa forma di malattia di disabilità abbiamo infatti poi vabbè c'è anche da dire che è il cervello la cosa la nuova cosa sexy fra virgolette no? si sente sempre di più di come le persone siano più attrenti per come si comportano per quello che sono più per come appaiono perché il cervello è il nuovo muscolo che sta portando avanti la nostra umanità ok? quindi perché persone come Stephen Hawking hanno comunque avuto una moglie che gli è stata vicino per un sacco di tempo anche se poi si sono lasciati perché Stephen Hawking nella sua divisibilità era una persona estremamente interessante ed estremamente utile che poteva provvedere alla famiglia comunque perché guadagnava fior fior di quattrini grazie alle sue ricerche quindi diciamo che la cosa si si sta spostando nel senso l'importante è che sei utile alla società secondo me per essere un compagno fra virgolette attraente però nell'istinto dell'essere umano non mentite quando magari provate quel senso di ribrezzo è una parola brutta forse però provate quel senso di un termine più leggero non so cosa usare di disagio sì quel senso di disagio quando siete vicino a una persona che ha un handicap che magari poi si affievolisce per carità e alcune persone lo vivono in modo completamente diverso ma l'animale che è in noi il maschio la femmina con la clava che tengono così tanto a difendere il proprio villaggio a coltivare la terra e andare a caccia lo vorrebbe fuori dal nostro villaggio infatti il senso è proprio di disagio perché ci mette a disagio il fatto che esista perché è un peso per la società fra virgolette ci siamo evoluti e abbiamo costruito un sistema che permette a queste persone di essere tutelate fra virgolette no? anzi senza fra virgolette queste persone vengono tutelate e perché vengono tutelate? perché abbiamo sviluppato delle emozioni e secondo me è una società aliena che punta alla perfezione e la perfezione non è la democrazia la perfezione è una dittatura tendenzialmente come ragionamento di massa la perfezione più che una dittatura è un unicamente tipo sciame forse un misto fra menti è un misto secondo me adesso sono un po' si sta andando nella fantascienza è un misto e i borg di star trek io non sono un fan di star trek ma ne conosco i fan di star trek e i borg di star trek cosa sono? un unicamente quindi un unico obiettivo che assimilano il soggetto e tutte le informazioni tutte le caratteristiche del soggetto in automatico vanno a supportare la gigantesca unicamente realisticamente parlando una razza aliena che punta alla perfezione assimila tutto e elimina gli scarti perché una volta che sei che lavori per un solo obiettivo anche la morte stessa non ti pesa più tu immagina una società aliena dove il singolo individuo non ha paura minimamente della morte che per il bene della comunità si rende conto che la sua morte potrebbe essere un bene se non necessario ma tipo i giapponesi beh sono alieni cazzo i giapponesi però si 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 se ci pensi nella società perfetta il sacrificio è necessario sacrificarmi perché non sono utile e sto solo consumando risorse o sacrificarmi perché col mio sacrificio potrei ottenere qualcosa di più per la società rispetto che con la mia esistenza e noi grazie alle emozioni grazie alla coscienza abbiamo questo grosso punto debole la paura di morire l'affezionarci ad altri esseri umani che ci rende davvero davvero molto difficile il separarci da loro la morte di una persona cara tendenzialmente ci distrugge ci rende più deboli e in una società perfetta con una razza che vuole puntare alla perfezione assoluta questo non deve accadere la morte di qualcuno non dovrebbe toccarti minimamente secondo me questa è la razza aliena perfetta ecco quella che secondo me è una razza aliena evoluta che tanti se la immaginano magari come armoniosa sì io me la immagino diversa ricca di amore io me la immagino invece fredda e calcolatrice una razza aliena no io me la immagino tutti tutti i casi vogliono bene ma dove porta l'amore è una partita di tempo amarsi no non è vero e cosa cosa rende di produttivo per la società amarsi tendenzialmente immagina una cittadina un sacco di gente che si vuole bene si tratta ti regalano tutti quanti le cose tutti sono felici eh sì tutti sono felici ma cosa fanno di positivo per l'umanità una città del genere tutti continuano a essere felici quindi non hanno nemmeno lo stimolo di cercare la soddisfazione in qualcos'altro ma perché non hanno nemmeno lo stimolo di crescere la soddisfazione in chissà che cosa ma no ma io sto parlando della razza aliena perfetta perché la razza aliena perfetta quella è la razza aliena perfetta perché io la società che stai descrivendo tu me la immagino come un'enorme lezione di matematica che falle sì esatto ma e invece no a me piaceva italiano disegno ma no anche a me lo capisco però stiamo parlando della razza aliena che dovrebbe avere la tecnologia più avanzata possibile capisci e quindi secondo me la razza aliena o magari la loro risorsa rinnovabile è l'amore tutti si amano talmente forti che producono energia peggio di una puntata di drag a forma di cuore con la quale viaggiano per tutto l'universo sì e la madre di repente si accoppiandosi la alimentano no ma è amore diverso non è amore sessuale che è istintivo è proprio amore divino oh come sono tenere come sei tenere si vede che vuoi vedere un mondo migliore da oggi sì e poi vedi è un'altra civiltà perfetta forse perché sono più felici che però si estinguerebbe prima di trovare le risorse necessarie a esplorare le grandezze dell'universo riuscire ad esplorare le grandezze dell'universo vuol dire che tu devi ottimizzare il tuo pianeta d'origine al massimo se tu non riesci ad ottimizzare le risorse del tuo pianeta di origine in modo freddo e calcolatore perché secondo me la chiave per esplorare l'universo è trovare il giusto equilibrio fra mantenere il nostro pianeta vivo il più possibile ma quando siamo lì lì capire che è l'ora di consumarlo fino all'ultimo cazzo di osso e abbandonarlo perché una volta che abbiamo la tecnologia per colonizzare altri pianeti chi se ne è forta della terra dobbiamo consumare tutto quello che c'è per espanderci il più possibile nell'universo nella logica proprio di ottimizzazione secondo me è la razza linea perfetta la prima che ci raggiungerà ci spaccherà il culo perché è una razza così è una razza che è arrivata dov'è perché ha eliminato ogni palla al piede appena parla col primo essere umano che sta condividendo l'ennesimo post su facebook oh quelli speriamo siano i primi a morire moriamo tutti il giorno che una razza linea del genere che ha quella tecnologia e ha quell'atteggiamento che dico io ci stermina tutti tranne me perché ho fatto questo video anche io anche io sì ma tu parlavi della razza linea dell'amore che sono quelli che hanno ammazzato prima di venire qua quindi sei fottuta lei è una di quelli dell'amore eliminatela lui invece lo manteremo per procrastinare procrastinare i geni dell'umanità prendete 50 femmine e fate accoppiare Locke con tutte le 50 femmine continuamente creeremo l'essere umano perfetto e lo useremo come schiavo e useremo Locke solo per accoppiarsi con le femmine sì magari hanno eliminato il sesso si procrea solo più con la provetta ma cazzo quindi ti faranno sfondare di seghe ah beh quindi non cambia molto vinci lo stesso sì va bene come adesso praticamente esatto e direi che per questa puntata del podcast qualunque ci siamo persi chiudiamo su questo wallpaper dell'universo fra l'altro bellissimo fatemi sapere cosa ne pensate delle intro e mi sono infognato in questa puntata mi sono infognato in un paio di due o tre volte anzi mi sono infognato sul sì sì su Trump che è un argomento che ti sta a cuore sì no che poi mi dà fastidio che poi sembra che sono uno che supporta Trump no no ho capito io il tuo discorso il mio discorso è che mi stanno sul cazzo quelli mi stanno sul cazzo la gente chi giudica prima di esatto sulla base di una semplice campagna elettorale esattamente e poi vabbè sulle manifestazioni quindi vaffanculo a tutti è stato un piacere parlare con voi lasciate un mi piace al video condividete il video ricordatevi che Danda ama tutti e che invece io sono un freddo animale calcolatore che vi eliminerà al primo difetto anzi in realtà vi eliminevo solo perché mi state sul cazzo non me ne fotte niente dei vostri difetti fisici non sono una persona superficiale tuttavia non tollevo le persone stupide quindi fate attenzione a cosa condividete su facebook o verrete eliminati dalla faccia della terra io sono Loc io sono Danda e ci vediamo il prossimo mercoledì anche se non è in diretta l'episodio viene sempre pubblicato di mercoledì alle ore 22 ciao